Allora, benvenuti, grazie, grazie per esserci tutti. Io mi chiamo Riccardo Luna, sono tornato alla Bocfest dopo tre anni e ho ritrovato la pioggia. Se sentite qualcosa che cigola è il mio ginocchio, che vi ho parlato, però succede col tempo. Siamo qua per raccontare che futuro e abbiamo dato come titolo a questo piccolo incontro breve che faremo, breve nonostante un'infinità di persone dietro di me, l'abbiamo chiamato Italia che futuro. Il progetto di che futuro è nato più o meno un anno fa, lui è David Casellini, pensate che più o meno un anno fa David ha deciso di lasciare il famoso posto fisso anche in un posto importante perché ha detto quasi quasi vengo a fare una cosa con te e questa cosa con me all'inizio era proprio l'idea di fare che futuro. Quando siamo andati da quello che doveva pagare che futuro, che era che banca, noi gli abbiamo detto vi proponiamo una cosa molto innovativa, dice davvero che cosa? Un blog e questi già si sono depressi. Allora gli ho detto no, ma un blog particolare mi hanno detto ma naturalmente ci scrivi tu, dico no, io non ci scriverò mai e questi si sono depressi di più, ho detto no, allora chi scriverà? Discriveranno gli innovatori italiani, questa è una parola che non conoscevano, chi saranno questi innovatori italiani, dei marziani? E poi gli ho detto che avevamo fatto un sito che avrebbe pubblicato un solo pezzo al giorno, nel casino, non volevamo le pagine viste, quella roba lì, niente, un pezzo al giorno e basta, una tristezza. E lui già ormai era incastrato, io l'avevo portato via con moglie e due bambini, insomma un disastro, quasi due bambini, poi è arrivato dopo l'altro bambino. E poi gli ho detto anche che volevo un sito senza pubblicità, niente, ne sei neanche un banner. E poi siamo partiti, siamo partiti a fine marzo, in realtà all'inizio d'aprile, a fine marzo ho spiegato che saremo partiti, all'inizio d'aprile e poi la cosa è cresciuta perché l'idea fondamentale era prendere un po' degli amici che avevo e dirgli mi raccontate quello che fate ogni mese, mi raccontate una volta al mese che cosa succede, visto che l'innovazione in tutti i vostri campi diversi la praticate, che sia una startup, che sia agenda digitale, che sia social innovation, visto che fate un sacco di belle cose, invece che dircelo al telefono o in una mailing, mi raccontate una volta al mese quello che fate. E sopra questo ci volevo aggiungere una cosa, ci volevo aggiungere il fatto di scoprire delle storie nuove, che poi è la cosa più bella che c'è in rete, cioè trovare delle persone nuove che ti raccontano delle storie che non ti aspetti. E se voi oggi andate a vedere che è futuro, scoprite che gli articoli più letti, con tutto il rispetto per questi che sono brevissimi, tutti fuori classe, spesso sono quelli che ci mandano i lettori. Questo mese l'articolo più letto è di Paolo Aliverti, dove sta Paolo Aliverti? Eccolo, Paolo. Dopo ve lo faccio sentire. Allora, visto che facciamo Italia che è futuro, la faremo rapida, la finiremo con un piccolo video. E poi volevo leggervi una cosa, io comincio da qua. Italia che è futuro. Augusto Coppola, comincio da te. Parliamone. No, è una minaccia. Italia che è futuro, che ti aspetta, che ti fa pensare questa domanda? Mi fa pensare a una sorgente di informazioni che per me è estremamente utile, è un appuntamento quotidiano per cercare di sapere non soltanto cosa ne penso io, ma cosa ne pensano altri. e spesso con punti di vista molto differenti dai miei, che mi permettono sempre di vedere cose nuove. Il futuro dell'Italia invece? Il futuro dell'Italia è che sono molto positivo, secondo me le cose non possono ne migliorare, in particolare nel campo dell'innovazione vedo un trend positivo, pazzesco. I numeri assoluti sono ancora certamente non all'altezza di un paese come il nostro, ma ripeto, i trend sono pazzeschi, quindi sono molto ottimista. La cosa strana di questa strana truppa di che futuro è che siamo anche generalmente molto ottimisti, non si capisce dove l'abbiamo scelti. Stefano, noi abbiamo vissuto pochi post tuoi, però abbiamo vissuto una grande campagna che era Quinta for President. Italia che futuro? A te. Stefano Quintarelli. Devo dire che io sono molto contento della piega che stanno apprendendo le cose, perché finalmente c'è attenzione per i nostri temi, che due anni fa assolutamente, un anno e mezzo fa assolutamente non c'erano. Credo che ci sia un grandissimo fermento intorno a tutti i temi tecnologici. Basta vedere come è andato non solo TechCrunch, non sono andato a Roma, però gli eco sono arrivati, non solo TechCrunch ma anche capitali coraggiosi. Quindi c'è un'attenzione che fino a un anno e mezzo fa non c'era. Questo è un fatto molto positivo. E niente, vedo un futuro difficile ma con grandi potenzialità. Allora, Silvia Vianello, professoressa, come la chiamo io. Professoressa, Italia che futuro? Digital life? Sì, beh, io parlo di digital life, però in realtà adesso in Italia dobbiamo parlare anche di qualcosa che porti poi ai posti di lavoro. Quindi Italia che futuro? Ma dal mio punto di vista noi parliamo tantissimo di innovazione, di start-up ed è giustissimo, lo facciamo su che futuro. Lo faccio ad esempio in un programma televisivo in cui accolgo anche le storie che troviamo su che futuro, però quello che secondo me è importante è che non ci dobbiamo dimenticare che comunque, cioè anche quando si parla di crescita zero non vuol dire non aver fatto niente, vuol dire aver fatto tanto quanto l'anno prima. Però per fare tanto quanto l'anno prima è necessario occuparsi sì di start-up e di innovazione, ma è necessario anche occuparsi di tutto quel tessuto economico che adesso sta chiudendo, delle aziende anche che stanno fallendo. Quindi l'Italia che futuro vuol dire occuparsi di quello che c'era, migliorarlo e di avere l'innovazione tramite le start-up e tramite varie altre iniziative che aiutano però poi a quella che dovrà essere la crescita, la ripresa. Quindi dal mio punto di vista sì start-up, però prendiamoci anche cura di chi adesso magari è 50 anni che è un'azienda e è in difficoltà. Allora io volevo chiedere a Paolo Aliverti di prepararsi per leggerci il suo post, che è stato il post del mese così capiamo anche le storie. Davide mi trovi quello di Andrea Vaccari? Da qualche parte se ce l'abbiamo? Perché è stato il post più letto della storia di che futuro, è stato scritto da Stefano Bernardi, che non è qua credo che sia in Silicon Valley, ed è la storia di Andrea Vaccari. Però volevo fare una pausa di questi interventi perché nell'Italia che futuro mi interessava anche ragionare nell'Italia che è passato. Allora oggi a proposito del passato è uscita la lettera che un certo la vitola ha scritto a un presidente del Consiglio Italiano e secondo me è uno specchio di quello da cui ci dobbiamo staccare. Allora mi prendo questa licenza poetica e anche se non parlo napoletano ve la volevo leggere. Signor Presidente, la prego di scusarmi se con la consuetudine che lei mi ha concesso le scrivo con estrema chiarezza. Leggere che lei mi accumunava a un mafioso mi ha fatto molto male e ho rischiato davvero, di apostrofo avvero, di farmi impazzire. Io mi sono fatto da solo, senza il suo benché minimo contributo. Lei invece era in debito con me per avere io comprato De Gregorio, tenuto fuori dalla votazione cruciale Pallaro, fatto per venire a Mastella le notizie della Procura da dove erano arrivate le pressioni per il vergognoso arresto della moglie e lavorato, tra virgolette, Dini. Lei mi ha promesso più volte di entrare al Governo, di mandarmi al Parlamento Europeo, di entrare nel CDA RAI, che il primo incarico importante che si fosse presentato sarebbe stato per me, di collocare la Ioannucci nel CDA dell'ENI, di nominare Pozzassere almeno Direttore Generale di Finmeccanica. Mi ha concesso la Ioannucci nel CDA delle Poste e il Commissario delle Dighe, ruolo inventato da me con Masi quando ero a Palazzo Chigi. Ho ottenuto da lei anche che Forza Italia concedesse all'avanti un finanziamento di 400.000 euro nel 2008. Altro non era che il rimborso spese che lei mi aveva autorizzato a dare a De Gregorio nel 2007. Quando mio cugino editava il giornale dell'Italia dei Valori, Gianni Letta, su sua richiesta, fece pressione sull'avvocato per sbloccare il finanziamento pubblico. Mi accusano di averlo insistentemente raccomandato, il maresciallo Lamonica, la fonte che ha contribuito a salvare Bertolaso e che ci ha coperto nell'indagine sull'acquisto dei senatori. Ha dato, 2T, alla sarda come scrive Gramellini, una mano sul serio nelle indagini su Sacca e Cosentino e ha eliminato, con doppia L alla cinese, alcune foto che la vedevano ritratto, una T alla romana, assieme a Bassolino e ad alcuni mandanti della Camorra per la vicenda rifiuti. Non è mia intenzione rinfacciarle nulla, Presidente, ma lei mi diede la sua parola. Si tratta dell'escussione di un credito morale che sono convinto di avere. Le cose fatte tra noi le ho fatte scientemente e come tale da uomo. Lei non sarà mai coinvolto, mai e poi mai. Ho bisogno che ci trovi lavoro ad alcuni di quelli che lo hanno perso con l'avanti. Il lavoro. Si tratta di mia moglie. 3-4 mila euro al mese. Giornalista. Mia sorella, laureata in psicopedagogia. 2-3 mila euro al mese. Il mio ex autista. Due ragionere. Ragionere. Il giornalista. Un giornalista. Dice Gramellini, almeno uno finalmente. Ho poi bisogno che si paghi una società cinese a 900 mila dollari che mi ha fornito i servizi necessari alla definizione del piano di sfruttamento della mia concessione di taglio in Amazzonia. Il clamore della vicenda giudiziaria sta determinando un comprensibile ma odioso ostracismo nei miei confronti. Si restituiscono a Capriotti 500 mila dollari da lui spesi a vuoto dei quali mi ritiene forse giustamente responsabile. Ha una sala bingo. Non è difficile pagarlo perdendo un po' di soldi al bingo. Così saprebbe come giustificarli. Tranne che le assunzioni per le quali la prego di impegnarsi al massimo si tratterebbe solo di un prestito. Assieme alla somma prima elencata, 900 mila dollari più 500 mila dollari più 5 milioni di euro, ovviamente le restituerò anche i 225 mila euro residuo dei 500 mila affidatemi da Tarantini. Si perde il conto. Ho in programma di costituirmi a Napoli per tentare un patteggiamento subito dopo le vacanze natalizie. Se Dio vuole che non mi catturano prima con un allarme rosso dell'Interpool, che sembra il pool di poliziotti nerazzurri, sempre chiosa, gramellini. La prego di far contattare mia moglie per farmi sapere a chi emettere le fatture dello studio di avvocati esteri della società cinese e di farle sapere come procedere per le assunzioni. È la prima volta che le chiedo un aiuto, mentre io per lei non mi sono mai risparmiato. Ne approfitto per augurarle un Natale sereno, anche se capisco che tra problemi, famiglie e fidanzate, non sarà semplice neppure per lei. Dopo i casini devono arrivare soddisfazioni proporzionali. Vorrà dire che ci divertiremo da morire e molto a lungo, ma senza il suo prestito mi ridurrei, Dio non voglia, alla fame. Questo è un po' il passato. Prof, sto depresso? Cazzi, come si dice. Sono robe allarmanti. Però... Sì, no, quello già lo dobbiamo per scontato. Magari Siri farebbe meglio. Devo dire che in effetti hai ragione di tu. Siamo una banda di inguaribili ottimisti, potremmo sottotitolarci. E che futuro, no? Perché evidentemente... E questa è la critica che ogni tanto ci fanno i lettori, no? Diciamo, ma come? Vedete tutto rosa. Io, almeno dal mio punto di vista, penso che non sia vano ottimismo, perché come spesso ricorda anche Riccardo, ogni tanto che futuro è il pretesto per incontrare lungo il nostro percorso idee meravigliose, persone meravigliose che ci stupiscono e che ci danno speranza. Io credo che il nostro futuro siano i nostri figli, credo molto in loro, perché appunto, diciamo, in quello che abbiamo alle spalle c'è poco da credere. Mentre i nostri figli hanno delle possibilità, lo dico a cominciare da mia figlia, ma più in generale, credo che abbiamo il dovere di impegnarci per far crescere queste giovani generazioni che ci illudono di sapere tutto della tecnologia, grazie alla mostruosa familiarità e confidenza che hanno con la tecnologia, ma in realtà non sanno nulla, vanno assistiti, vanno aiutati. E io penso che il fatto positivo nel quale dobbiamo impegnarsi sia proprio questo, no? educare e accompagnare i nostri figli che colgono in maniera naturale, istintiva, l'uso, la fenomenologia delle tecnologie, però non sanno niente, vanno aiutati, vanno assistiti, vanno educati. Senti, mentre Paolo Oliverti, vieni? Eccoti. Allora, così facciamo il confronto tra quello che abbiamo letto adesso e una bella storia di quelle che abbiamo pubblicato. Lui, davanti a me, è Francesco Canavaro, il progetto grafico di Che Futuro l'ha fatto lui. Paolo, a te. Te lo tengo? No, ve lo faccio il paletto. Ok, grazie. No, me lo tengo, lo sai. Ok. Intanto grazie per avermi invitato. Il mio post è molto semplice perché è la storia della mia vita. Mi hanno chiesto di leggervelo. È un po' lungo. Secondo me vi faccio un riassunto. Tanto la storia la sospiro, no? Allora, il titolo è Quei business plan fatti sull'autobus per lanciare una start-up da 100 dollari. E racconta quello che faccio io ormai da due anni circa, più o meno, sì, tutti i giorni. Io ho due lavori, quello diurno e quello notturno. Quello diurno è un lavoro normale, per cui molti si sentono, fanno fatica al mattino a alzarsi per andare al proprio lavoro. Quindi ho detto, me ne invento uno. È un lavoro che nasce dalle mie passioni, perché secondo me uno che vuole iniziare un lavoro, vuole crearselo su misura, deve fare due conti e dire, si fa un business plan, quando uno vuole fare un'azienda o far partire una start-up. In questo business plan deve metterci la propria vita, la propria famiglia, il proprio tempo libero. Io sto cercando di fare questo. Quindi il mio lavoro del futuro è un lavoro in cui, oltre al lavoro vero e proprio, ci sta tutta la vita. Questo mi garantirà, spero, a lungo termine, di avere un lavoro che sia il migliore possibile. C'è un proverbio cinese che dice, trovati un lavoro che ti piace e non lavorerai un solo giorno della tua vita. Più o meno questa è la mia filosofia. Per cui ho iniziato studiando come fare a partire una start-up. Io sono un ingegnere, ho iniziato dieci anni con lo saldatore, lo spettano, insomma, per un trafficone. Poi mi sono trovato a fare il programmatore e alla fine ho detto, seguo i miei sentimenti, seguo il mio cuore e creo questa nuova start-up. Il problema è, ho un'idea, vado in banca, mi faccio dare i soldi, faccio un bel debito, lavoro per un anno la mia idea, la presento sul mercato e succede niente. Quindi non la compra nessuno, nessuno la vuole e io devo ritornare dietro i soldi. Per cui, va bene, il mio ufficio è la panchina del parco Sempione, è un sedile sull'autobus o una poltrona macchiata del treno. Spesso ho una postazione in piedi nel metro di Milano, dove puoi cercare di scrivere veloci appunti sul Molesk, non su un blocchettino. Ho una start-up da 100 dollari. Non ho chiesto denaro a nessuna banca, non mi li avrebbero mai dati, ma i soldi non mi servono, non mi serve neppure un ufficio. Potrei vivere anche senza internet, usando gli hotspot della città di Milano. L'investimento maggiore è stato 200 euro per un piccolo pc e per l'hosting del sito. Bene, ti ringrazio Paolo. Grazie tante. Allora, questa storia c'è ovviamente qualcosa anche di ingenuo, come lo scrive. Ha avuto molto successo questo posto, c'era molta passione. Paolo Priviter, tu che start-up ne fai, ne hai fatte varie, sei uno start-up per seriale. Che effetto ti fa questa storia? Ce l'hai a San Francisco, giusto? Pick one è qua. Fai anche le start-up se non le fai. Come? Fai anche le start-up se non le fai. Beh, per forza. No, è emozionante. Alla fine è l'unica maniera oggi per fare imprenditoria, se non hai un sistema che ti supporta, è trovarsi i propri spazi. Ci sono sicuramente dei posti in cui è più semplice, può essere negli Stati Uniti o come sai benissimo la mia ultima esperienza in Cile, dove c'è il governo che supporta idee, dandoti 40.000 dollari senza chiederti niente in cambio, se non soltanto il tuo tempo per spiegare come sei riuscito ad arrivare fin là, praticamente. E loro invitano le persone, li invitano gli imprenditori come te e Paolo, che adesso non ti vedo più, ecco ti. Proprio per dare l'energia che tu hai espresso tramite il tuo pezzo alle persone del paese che ti ha invitato, in questo caso i cileni in Cile. E alla fine è la storia di tutti. Il mio piccolo, io sono partito dieci anni fa, esattamente nella tua situazione, io non ho trovato nessun supporto, non ho trovato nessuna corsia preferenziale per chi ha delle idee e per chi vuole essere supportato, per chi chiede aiuto. e quindi alla fine io me ne sono andato. Tu sei rimasto, lo stai facendo qui, complimenti, è bellissimo. Dieci anni fa, quando ancora si usavano i fax, e non c'era Facebook, non c'era LinkedIn, io me ne sono scappato, mi sono ricostruito l'Italia che speravo all'estero. Adesso faccio un po' su e giù, faccio su e giù da due anni, dopo dieci anni che sono all'estero, perché io continuo a vedere un potenziale incredibile, visto che si parla di Che Futuro. E lo vedo proprio tramite anche i pezzi delle persone, anche gli editor che scrivono Che Futuro, sono dei fari che io vedo dall'estero, hanno un potenziale che non è ancora stato rilasciato, e ha dell'incredibile, e secondo me mettendoci tutti insieme possiamo fare una cosa di molto interessante. Non è vero che siamo tutti sempre ottimisti di buon umore Che Futuro, ci sta anche Ernesto Belisario. Sarebbe sbagliato, anche le minoranze hanno il loro ruolo. Ernesto. Sì, così però mi fa fare la parte del cattivo, che magari mi esce abbastanza congeniato. Ringrazio, troppi complimenti. Io credo che noi abbiamo due tipi di problemi. Io sono abbastanza ottimista, figurati, parlo di innovazione della pubblica amministrazione, cioè esiste qualcuno più masochista e ottimista di me? Boh, probabilmente non credo. Credo che i problemi siano due. Noi quando parliamo di futuro abbiamo in mente quello a cui stiamo lavorando, invece in questo paese quando si parla di futuro, sentiamo la classe dirigente, politici o meno, che parlano di futuro, in realtà ho l'impressione che ci stiano prendendo in giro, cioè parlano di una dimensione altra da loro, della serie, sì, voi parlatene, noi però continuiamo a fare. Quindi forse dovremmo provare a declinare queste cose, non tanto come cose che vogliamo nel futuro, ma fargli capire che noi oggi, nel presente, costruiamo il futuro. Ed è, come dire, un tema abbastanza rilevante che dovremo lanciare. perché altrimenti abbiamo delle meravigliose parole. Io, su che futuro ho seguito il mio primo post è stato dal Brasile, seguendo questa cosa pazzesca che è stata Open Government Partnership, 55 paesi riuniti a Brasile a discutere di futuro della democrazia, dove c'erano capi di Stato, la Clinton. Confesso che quando lì ti chiedono, tu provi a chiedere perché non venite ad investire in Italia e ovviamente nessuno vi farà mai il nome della riforma del mercato del lavoro, ma tutti vi diranno perché c'è troppa corruzione, perché non ci fidiamo della lunghezza dei vostri processi. Questi sono temi su cui noi dobbiamo lavorare da domani mattina con l'entusiasmo, con le visioni degli innovatori e se possibile anche degli hacker. Però non è un messaggio negativo, anzi è un messaggio a raccolta. Non lasciamo che siano altri che decidono il futuro e non limitiamoci forse solo a scriverlo. Ci sono a volte delle buone notizie che capitano all'improvviso. Per esempio è successo che dopo, che per tanto tempo è stato vietato fotografare i monumenti italiani per metterli su Wikipedia, improvvisamente è successo qualcosa e qualcosa è cambiato. Io ho trovato quei piccoli segnali in cui improvvisamente qualcuno al governo si rende conto che il mondo gira, che le cose cambiano. Frida, ce lo racconti? Anche perché fino a domani si può ancora partecipare. Non so se c'è qualcosa di bello, ci sarà sicuramente qua da fotografare per partecipare a Wikilove Monuments. È stato un cammino lunghissimo. Wikilove Monuments è un concorso fotografico che fotografa il patrimonio di monumenti di una nazione. Hanno iniziato in Olanda tre anni fa, l'anno scorso è diventato un concorso europeo, quest'anno è mondiale. Noi l'anno scorso volevamo partecipare fortemente, volevamo proprio farlo perché non fare un concorso del genere in Italia è un peccato mortale, come avrebbe detto mia nonna. Invece non potevamo perché il Codice Urbani in realtà dice che tu puoi fotografare i monumenti, certamente, ma per uso personale o di studio. E nessuno sa dirvi in questo momento quali siano i monumenti non tutelati dal Codice Urbani perché non li tutela mica tutti quanti. Il Ministero non ha queste liste, dice di averle ma non le può rendere pubbliche, la realtà è che non le ha queste informazioni. Quindi l'anno scorso noi non abbiamo partecipato, però abbiamo lavorato per un lungo anno, da una parte a raccogliere quelli che erano i monumenti liberamente fotografabili, andando a bussare a tante porte e chiedendo scusate, cosa possiamo fotografare qui? E dall'altra parte lavorando insieme a Nexa e quindi a Creative Commons Italia, degli avvocati bravissimi, a discutere con il Ministero per riuscire ad avere un minimo di apertura. Il concorso iniziava il primo di settembre. Il Ministero ha firmato attorno al 10 di settembre, però in questo momento ci sono quasi mille monumenti fotografabili, ci sono più di 5.000 foto che sono state caricate, ma la cosa più bella di questa esperienza è stata che c'era un'unica persona pagata a lavorare a questo progetto e un piccolo stuolo di volontari, non tanto grande, ma appena le persone ne hanno sentito parlare sono andate nei loro comuni e hanno chiesto noi vogliamo partecipare, che cosa ci date da fotografare, perché non potete perdere un'occasione di questo tipo. E questa è veramente stata la cosa più bella, perché le persone quando trovano un progetto che gli piace sono pronte a collaborare, per questo che il futuro sarà bellissimo. Cioè c'è una foto storica di quelle che sono arrivate dall'Italia? Giusto, abbiamo battuto il record di immagini caricate l'anno scorso, 168.000 qualcosa, l'immagine, questo numero più uno è italiana, e forse è il segno più bello. Orbetello? Orbetello, sì. Arriva del Garda se arrivate foto? C'è qualcosa che possiamo fare in extremis dentro domani? Ci sarà una robina, no? Ma vale anche qualcosa di paesaggistico? Perché quella foto di Orbetello era la laguna. Sì, perché la prima persona tra virgolette che ha creduto in questo progetto è stato il WWF. Per cui noi abbiamo tutte le oasi del WWF fotografabili e la laguna di Orbetello è in quelle. Allora, io tra l'altro volevo dirvi, visto che parliamo di Italia che è il futuro, se c'è qualcuno di voi che vuole venire qua a raccontarcelo, noi siamo contenti, non è che siamo, anche se vedete un sacco di gente, non è che non vi spaventate. Cioè, si viene, si prende il microfono e ne parliamo. Maurizio Napolitano, sono contento che, quando ti ho chiesto di cominciare a collaborare, perché le cose di cui tu scrivi sono proprio quasi esoteriche a volte, no? L'Open Knowledge Foundation, Open Street Map, cioè portarle a un pubblico largo era quasi una scommessa. Di che parli? Infatti io ringrazio che futuro, perché io penso che stiamo vivendo un momento importante nel passaggio dal modo della scarsità a quello dell'abbondanza, dall'analogico al digitale, dal fatto che copiare diventa sempre più facile e sono stati creati in passato un sacco di ostacoli per permettere questo, il caso che citava Frida. E io faccio parte di quel movimento e gioco anche in casa perché lavoro a Trento alla Fondazione Bruno Case e facciamo ricerca e quindi la ricerca, come diceva Newton, se ho visto lontano è stato perché sono stato sulle spalle dei giganti e le spalle dei giganti vuol dire poter recuperare tutta la conoscenza del passato, combattere quei strumenti che prima servivano a proteggere la scarsità per far vorrire l'innovazione. I brevetti nascevano per quello e poi ci troviamo dei casi assurdi in cui l'innovazione si trova rallentata. Allora mi trovo a raccontare queste storie in cui racconto cosa vuol dire aprire, usare l'open source, usare l'open data che sono due strumenti che dal mio punto di vista sono un grande passaggio avanti per l'innovazione. Se pensiamo ai casi, non so, Google, Facebook, hanno costruito su l'open source tantissime cose. Se guardiamo poi ai dati, abbiamo i dati per costruire altre cose in più. Visto che citavi OpenStreet, vi invito a guardare proprio Riva del Garda su OpenStreetMap e la ricchezza di informazioni che ci trovate sono superiori. OpenStreetMap è come Wikipedia in cui ognuno può disegnare la mappa del mondo. Quel grosso vantaggio è che quei dati posso prenderli e riutilizzarli e poter costruire altre cose. Ti ho chiesto di fare un post su questo e non ho ancora letto quindi non so la tua risposta. Ma ci spieghi che è successo con le mappe di Apple di iOS 6? Io devo dire che non ho ancora aggiornato il sistema operativo perché avevo paura di perdermi a Riesse. Ma allora il mio post è stato ottimista perché giustamente hai detto che dobbiamo essere ottimisti. Io più che starò a guardare quello che ha combinato adesso Apple con i suoi casini riguardo le mappe perché tutto sommato è complessa la cosa. La quantità di dati che ci sono è impressionante. Molto banalmente se guardiamo questa Riva del Garda dall'alto guardiamo la costa se siamo a 100.000 metri determinati dettagli non ci servono. Secondo me ha canato un po' su queste cose. Nel fare i calcoli avrà lavorato solo su un patchwork preciso. però quello che mi domando io invece perché Apple ha deciso di portare le mappe di portare via Google Maps che da molti è considerato cioè ci sono mappe di Google perché devo fare altro? Beh la risposta è abbastanza semplice no? Mi levo via un sacco di clienti posso decidere cosa ci va sulle mappe rispetto ad altri quindi Apple finora ha sempre dimostrato che fa quello che vuole ha deciso di ammazzare Flash quando l'iPhone 4 non funzionava ha chiesto scuse e tutti quanti sono andati avanti quindi anche se adesso le mappe di iOS 6 fanno schifo vedrete che nel pochissimo tempo saranno migliori interessante però vedere quali sono al momento le alternative che stanno crescendo Amazon meno di due settimane fa ha dichiarato che userà un sistema di geocoding cioè dove io dico arriva dal gardo lui si trova mi dà le coordinate perché entra per tantissimi motivi anche qua c'è un discorso di business dietro e penso che i dati cartografici siano proprio il futuro perché si portano avanti sulla dimensione spazio-temporale che viviamo ogni giorno e quindi è un grande vantaggio dominare questa cosa Apple lasciamo che possa il suo lavoro ma sono sicuro che farà presto tutti quanti prossimamente forse saremo qua vediamo se saremo qua a dire fanno schifo o non fanno schifo come sono le mappe di Apple è scaricata c'è già l'iPhone 5 tu immagini o no? come nessuno poteva immaginare ce l'ho più lungo come ho detto prima il terminale la cosa straordinaria è che si puoi toccarlo qualcuno può twittare che l'una me lo tocca per voi così esatto devo dire che io ho usato la versione 6 di iOS come sviluppatore e funzionava bene Siri funzionava da Dio e le mappe si comportavano discretamente poi arrivano questi fastidiosi milioni di utenti che è un po' come su internet internet era un posto bellissimo prima del web poi sono arrivati tutti questi fastidiosi utenti per cui è diventato un inferno e si sono una persona anziana quasi più anziana di Cividini posso dire questa cosa anzi ti ringrazio di essere qui perché se no mi danno tutti del vecchiazzo e la cosa straordinaria direi è che Tim Cook ha chiesto scusa no? che avrebbe fatto Tim Jobs non l'avrebbe mai fatto avrebbe detto gli utenti sono stronzi e non sanno leggere le mappe no? questa cosa qui perché vi ricordate esattamente si no assolutamente perché voi vi ricordate quando c'era stato quel problemino con l'iPhone per cui dice se tenevi le mani in una certa maniera rischiavi di far contato all'antenna bla 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 e Jobs ha detto vabbè sono gli utenti che non sanno come tenere in mano i telefoni e sulle mappe probabilmente Jobs si sarebbe si sarebbe comportato alla stessa maniera poi sapete tutti che Apple comunque riuscirà a fissare questo problema e noi continuiamo a essere schiavi esatto ci sono delle vignette bellissime non so se avete visto sull'iPhone 5 però la cosa più bella che sta girando adesso in rete è il video che un assoluto genio ha fatto presentandosi alle 5 del mattino davanti a una fila di gente che aspettava di entrare in un negozio con delle scatole della Apple piene di vetro e percorrendo la fila diceva siete contenti sono qui questi sono gli iPhone ve li ho portati vestito da dipendente Apple e a un certo punto inciampa e fa cadere tutte queste scatole e si sente un rumore di vetro pazzesco e la cosa bellissima sono le facce delle persone che hanno inizio vi avevo presentato Davide con cui siamo partiti e Francesco che ha fatto il progetto e vi presento un altro pezzetto di Che Futuro che è Martina che cura l'agenda perché abbiamo messo l'agenda su Che Futuro perché per fortuna in questi anni Martina Pennisi si sono moltiplicati gli appuntamenti di innovazione all'inizio ce ne avevano uno ogni tanto adesso ci sovrapponiamo ce ne sono 5 al giorno nella stessa città l'altro giorno a Roma in contemporanea ce ne erano altri 5 allora serve anche una guida serve un modo per dire dove vado come partecipo come lo seguo live streaming abbiamo pensato proprio con l'idea di fare una rete fra tutti noi fra tutti quelli che si occupano di queste cose di inserire anche gli eventi su Che Futuro Marcello Cividini è un autore particolare perché ha fatto un solo post ma mi ha colpito per una cosa perché lui in questo mondo che a volte che cerca no che a volte che sempre così c'è entusiasma lui ha detto attenti alla fuffa attenti ai fuffologi grazie sì è vero che questa rete ha dato la possibilità a tutti di parlare e quindi ha dato anche la possibilità a molti che forse non avevano tutto il diritto di parlare di sproloquiare non mi riferisco a soltanto ai falsi like e così via ma sono tornando poi a leggere Malcolm Gladwell ho individuato questo piccolo passaggio cioè delle dieci minore che servono per diventare esperti di qualsiasi cosa e quindi il concetto era quello di lottare contro quello che è il dilettantesimo è vero che a volte si viene spinti dalla voglia di fare dal partecipare dal toccare ma quando poi si comincia a inventarsi un esperto in strategia di comunicazione non verbale oppure non lineare i nomi sono i nomi più assurdi online quindi la strategia di rete è una cosa comunque complessa e da fare che comunque senza una preparazione di base sulla comunicazione in generale non è possibile portare avanti quello che volevo significare è da invece tu sei esperto no io non sono esperto o meglio il fatto di essere in troppe materie e in troppe in troppi troppi cappelli non fa che tu sia un esperto è che se tu non sei un esperto almeno abbia il coraggio di dire che sei ignorante mentre invece qui nessuno è ignorante sono tutti bravissimi l'ignoranza è secondo me la molla per andare avanti perché se non so e sono curioso avrò voglia di studiare voglio di imparare voglio fare qualcosa di più quello che è comunque la lotta al dilettantesimo è importante è importante che l'università la porti in avanti è importante perché se i dilettanti sono animati da una grande passione è lì che bisogna lavorare il nostro paese è pieno di possibilità di fare qualsiasi tipo di lavoro abbiamo il territorio uno dei territori più ricchi non solo di bellezza naturale ma di monumenti e cose di questo tipo abbiamo una cucina abbiamo più varietà di viti in Italia che in tutto il resto del mondo abbiamo un numero di formaggi pari a quello della Francia abbiamo più vini abbiamo tutte le cose che in tutto il mondo ci possono invidiare e non ci facciamo nulla quindi perché non aiutare tramite l'università perché è la prima cosa che mi viene in mente però corsi per insegnare a chi ha una passione a approfondire a studiare e arrivare a riportare avanti questo paese ti voglio dire non è vero che non la mettevo mai l'ignoranza io ieri sera ero a Trieste a moderare un dibattito con Ilea Capua e Margherita Hac e a un certo punto la Hac che è una donna straordinaria e entusiasmante stava parlando di fisica quantistica e si è inceppata e mi guardava perché io le dicessi chi era che aveva fatto quella grande scoperta e io le ho detto professore Salute mi guarda non c'è esperanza non glielo potrò dire mai mi arrendo e volevo chiamare gli altri quattro lettori che abbiamo invitato che in realtà sono cinque perché c'è una coppia giusto? chi siete? Lorenzo prego brevemente tutti qui insieme prego io volevo fare solo una cosa sul tema della formazione la formazione è fondamentale ed è fondamentale non tanto per noi perché il problema attento ai fuffologi attenti alla fuffa è un problema e questo è un problema per noi ma che abbiamo già capacità di discernimento ma è un problema enormemente più grande per i ragazzi se avrete la pazienza di venire domani a luna c'è un progetto di cui il funky professor Frida io Wally che è in giro eccetera sulla quale siamo coinvolti che vi raccontiamo domani proprio sulla scuola che si chiama ImparaDigitale domani a luna dove? domani a luna non so bene dove comunque qua arriva alla Rocca va bene allora Lorenzo mi vuoi dire tu sei la prima nome e cognome e che cosa hai scritto la storia sono Elena Kadic e presento il mio blog feceforchetta.it è provocato molte polemiche perché tu a un certo punto hai detto quasi che era un lavoro e la gente ha detto ma che lavoro è fare il blog? io ho spiegato che nasceva come un contenitore delle mie passioni che è la moda il design la cucina e la fotografia spiegando che vado in giro ad intervistare chef stellati piuttosto che stilisti emergenti e do spazio sul mio blog avevo comunque detto che essendo questo essendo la mia passione non c'è cosa più bella che trasformare le proprie passioni in un lavoro e questo e qualcuno ti ha detto è come mangi ha visto che si chiama fashion forchetta sì ho comunque spiegato che oltre a questo c'è anche un lavoro quindi questa è una passione che magari un giorno possa diventare un lavoro grazie Elena chi erano gli altri mi ricordi anche perché dove state? prego venite lettori quindi ci siamo conosciuti solo a via digitale prego Raffaele Gaito startupper entusiasta raccontaci che hai scritto? io ho scritto il post intitolato i tre livelli di difficoltà di uno startupper quindi un esperto massimo diciamo con l'argomento sì sì io parlavo dei tre livelli nel mio caso quindi essere giovane farlo in Italia e farlo nel sud dell'Italia da dove? Salerno e l'hai fatto un espertato? sì e come si chiama? Mangatar e che cosa fa? giochi online come sta andando? benissimo semplice 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 me lo tieni? ok grazie ciao a tutti grazie per l'invito io mi chiamo Federico Fratta e ho scritto in realtà prima di scrivere su che futuro sei diventato un commentatore di che futuro perché c'era un momento in cui Lorenzo moderava 10 commenti tuoi al giorno eri un commentatore attivo diciamo che ho trovato la testata molto molto interessante quindi ha stimolato un'interazione frequente poi ho detto vabbè l'idea mi piace proviamo a partecipare e così è stato ho scritto il mio primo post relativo alla mia start up perché io sono imprenditore ho un'attività nel settore informatico e poi ho deciso di reinvestire vuoi per dei rapporti con i miei clienti non particolarmente felici che in Italia l'informatica non è molto ipervalutata perché è molto fumosa ma non felici che t'hanno fatto non pagavano? e tanti problemi nel senso a parte i pagamenti che sono sempre a 180 giorni poi non si capisce mai quando le fatture effettivamente vengono incassate ma il fatto è che non vedendo la materia è molto difficile vendere dei servizi perché non capiscono che cos'è una policy un service level agreement e così via e quindi è complesso e allora ho deciso di reinvestire quello che sono riuscito a fare e creare una start up da qui però poi visto che il tema mi stava molto a cuore ho deciso di scrivere un pezzo sulle economie locali e le regioni a statuto speciale perché secondo me gli interventi che bisogna fare per rilanciare l'economia dovrebbero essere agganciati al territorio e le regioni a statuto speciale permettono come sono organizzate di poter restituire quello che prelevano sotto forma di i rap al posto che i res accise varie di benzina e simili sulle nuove imprese non è che ci mettiamo i gattini su che futuro non so se avete capito il livello è una roba pesante ti ringrazio no comunque l'idea è quella di approfittare di centri di eccellenza tipo Trento mi viene in mente ieri ero alla notte dei ricercatori molto molto interessante o se no Trieste che è il top per quello che è il biotech biologia molecolare simili o se no anche Roma perché ero anche a Capitale Coraggiosi e ho trovato molto interessante l'evento affinché c'è Salvo Mizi ancora qui ho già andato via Massimo andato via Salvo Mizi affinché appunto investano nei giovani che vogliono darsi da fare e che spesso quando vogliono attivare una nuova attività si trovano con la scure di dover comunque avere in pronta disponibilità 50-100 mila euro per aprire un'impresa perché il costo del lavoro è qualcosa di massacrante cioè uno sviluppatore che prende sui 1300 euro al mese per un'azienda ha un costo aziendale di circa 3000-3002 e quindi è insostenibile ovviamente e allora questo pezzo ha scaturito una sequela notevole di commenti ed è stato abbastanza apprezzato ora ne preparerò un altro perché ormai vedremo grazie mille grazie tante ci abbiamo ancora te prego vieni tu sei ciao Ilaria piacere di conoscerti Ilaria ciao e niente io faccio parte della coppia e dov'è il resto della coppia? è là siete in tre eh sì siamo in tre e lui si chiama? Alessandro e lei? Sofia ciao Alessandro e noi abbiamo scritto questo post intitolato il miglior momento per fare innovazione in Italia è adesso e chi sei? Matteo Renzi? no ancora no ma in realtà il tutto è nato un po' da una discussione tra di noi perché io vengo da scienze politiche il marito è un informatico e quindi io ho sempre spinto un po' sull'aspetto diciamo sociale di come le tecnologie possono essere utili a far qualcosa di positivo e quindi abbiamo unito un po' le nostre storie e vicende personali e abbiamo creato questa pagina officine mobile e con la quale cerchiamo di promuovere progetti in ambito mobile ma non solo che abbiano un fine sociale in tutti gli ambiti possibili perché il migliore adesso? adesso perché noi c'eravamo un po' stancati di sentirci dire sempre no c'è la crisi no adesso non è il momento giusto è tutto nero invece noi pensiamo che invece proprio in questo momento cioè si è il momento per cominciare a mettere i mattoni per il domani sei arruolata presa si sposto benissimo bravo in bocca al lupo per officine mobile allora è tempo di costruire crepi grazie a voi allora questi sono alcuni tra i tantissimi post che ci sono arrivati questo mese io volevo chiudere con due cose la prima volevo chiedervi un unico non ho fatto queste cose dico un applauso uno solo perché se in questi sei mesi che il futuro ha girato lo dobbiamo in particolare a una persona che sta qua davanti che ci lascia cioè lui da domani va via ed è stato quello che in redazione ha lavorato vi voglio raccontare ha lavorato anche per un mese ha fatto che il futuro da Seattle lui ha detto io devo andare un mese a Seattle io ho detto che problema c'è lo gestisci da Seattle Lorenzo Mannella dopo questa presentazione se io vi dico che sono più pessimista di Ernesto Bellisari allora non mi credete me avevano dato una maglia bianca e ho detto no la voglio nera perché c'è bianco è troppo troppo per me in effetti sì io ho deciso di andare via ma devo ammettere che seguire che futuro conoscere gli autori leggere veramente di tutto cioè affrontare dei temi degli argomenti che per me da pessimista dicono ma figurati se c'è un futuro in Italia cioè sta gente crede veramente che ci sia un futuro in Italia e si ostina a scrivere che ci sia un futuro in Italia leggendoli veramente ci sono stati dei momenti in cui magari finisci di cambiare una virgola finisci di giustificare un paragrafo e poi ti rendi conto che non stai semplicemente davanti a uno schermo a leggere dei bit ma stai ricevendo qualcosa anche dalle persone che ti scrivono che ti affidano i loro pensieri pur essendo persone che ormai hanno l'iPhone 5 in anteprima in realtà è Zamperini che faceva quello scherzo di buttare i vetri in terra però non lo vuole rivelare a nessuno in realtà anche se sono persone che sono conosciutissime sono persone che sono abituate a scrivere tantissimo a essere ovunque a partecipare a eventi in tutta Italia in ogni caso ti trasmettono i loro pensieri e si aspettano una risposta da te cioè si aspettano che tu gli dica ok grazie per avermi scritto questa cosa grazie per aver investito il tuo tempo in queste cose questo è stato bellissimo perché quando veramente conosci personalmente le persone che stanno scrivendo quando ti raccontano le loro storie quando perdono un po' di tempo in chat a raccontarti cosa stanno facendo nel tempo libero ti ripaga il fuso orario di 9 ore di Seattle e dici vivi tranquillo comunque quindi grazie a tutti scusate se ho bannato qualcuno dai commenti però delle volte siete stati veramente incontenibili quindi c'è il pulsante io lo uso Lorenzo visto che non me l'hai voluto dire fino adesso da domani nel tuo ultimo giorno con noi ma dopo che fai? dopo in realtà fino al 10 ottobre c'è comunque iSchool quindi a Roma quella ci ritroveremo là dove parleremo di impara digitale parleremo di impara digitale io nel frattempo sto seguendo diverse piste una mi lascia a Roma ancora quindi chiaramente girerò all'intorno una potrebbe arrivare fino a Parigi ora spero che chi mi deve valutare non mi stia ascoltando io non so il francese non ho mentito dicendo che lo sapevo solo ho detto che so l'inglese però mi hanno chiesto di tradurre qualcosa dal francese ora ci proverò vediamo cosa succede se c'è qualcuno che parla francese grazie grazie Lorenzo allora abbiamo quasi finito noi abbiamo ancora un intervento e un video di un minuto l'ultimo intervento Marco Massarotto bello l'ultima parola per te finiamo in bellezza grazie mille ne approfitto perché io ho preso un po' di appunti in questi giorni quello che mi aspetterei io la riflessione che ho fatto anche assieme agli amici che sono qua è che la rete è il luogo di parola e di progetto l'internet è un luogo della parola come tutti qua lo rappresentiamo ma anche del progetto e secondo me dovrebbe esserci più luogo del progetto c'è tantissimo luogo della parola ma quello che ha bisogno il nostro paese è il luogo del progetto e ho chiesto a pranzo a Marco, a Stefano in questi giorni dove fargli questi progetti per cui io chiuderei con 5 punti che secondo me sono fondamentali per il nostro paese su cui costruire progetti e finiscono tutti per ITA come l'Italia quindi anche farlo apposta me ne sono accorto adesso rileggendoli e allora ci siamo segnati la produttività che vuol dire la flessibilità del lavoro la cultura della qualità del lavoro la gestione dei fondi hai letto una lettera che è ricorrente la connettività che te lo dico a fa no? cioè internet è l'infrastruttura di questo secolo va costruita in fretta ma anche l'educazione ne parla Stefano l'economia digitale la collettività che è una cosa che manca drammaticamente secondo me in questo paese cioè ognuno pensa per sé non abbiamo il senso dell'altro non abbiamo il senso del collettivo ne parlavamo a pranzo l'internazionalità che è un altro tema fondamentale su cui ci dovrebbero essere dei progetti a malapena parliamo inglese dobbiamo parlare cinese e l'ultima cosa è la dignità che l'abbiamo persa secondo me terribilmente la lettera che hai letto tu è un paese che non ha più dignità non ce l'ha più nessuno non ce l'ha dal presidente della regione Lazio ai consiglieri a tutto ogni giorno perdiamo questo che vuol dire valorizzare i modelli che è quello che poi stai facendo dai giovani start-up però oggi c'è il presidente Clinton con Nero Alessandri che so che tu conosci benissimo che inaugurano la Wellness Valley sì sì esattamente quindi valorizzare i modelli positivi del paese secondo me se riusciamo a costruire produttività, connettività collettività, internazionalità e dignità abbiamo forse un futuro migliore grazie Marco allora noi abbiamo finito io volevo sapere riusciamo a mandare questo video tra un attimo? si può fare? è possibile? cioè funziona? se io spingo succede qualcosa Davide poi a caso me lo spingi tu io volevo ringraziare presentarvi gli ultimi due pezzetti di che futuro una è la Ilaria Orfino Ilaria si è occupata per noi del progetto di protezione civica sapete con quanta passione abbiamo seguito e continuiamo a seguire la questione del terremoto e l'altra è Gabriella Spaziani che invece è tutta l'amministrazione del progetto quindi insomma una roba due donne serie che fanno una roba importante allora io ho detto che oramai scrivo da tutte le parti quindi non scrivo su che futuro per non inflazionare per non togliere spazio agli altri ma scrivo in infiniti posti quindi allora mi è successo in realtà adesso in questi mesi di scrivere una cosa e di vederla trasformata in un video io ho scritto una cosa che tra l'altro quelli che mi seguono a Wired forse si ricorderanno io mi arrabbiai molto quando vedi nel film di Checco Zalone l'ultimo una battuta che faceva ridere tutto il cinema oggettivamente che era in Italia studiare non serve a un cazzo lui dice questa cosa alla sua ragazza e tutti ridono e io mi ricordo che scrissi una roba per Wired dove dissi che in realtà è proprio il contrario che l'unica cosa che ci serve l'unica cosa che ci salva come persone e come società è studiare e continuare a imparare e continuare a migliorarsi allora questa cosa l'ho scritta a luglio e per una serie di motivi è diventato questo video che non c'è? ahi si è acceso? c'è? io c'ho io c'ho un alimentatore dietro no? è morto? era andato si è ribernato? che succede in questo caso? faceva freddo? sta partendo bravo c'ho una squadra ghichissima in un altro che si la mia password è il nome di mia figlia Carlotta niente di più banale vengo io dai a proposito vi dico già adesso finita questa cosa ci sono dalla rocca delle navette che vi portano in centrale dove Severgnini dialoga anche qua sotto dialoga con Marco Patuano quindi tendenzialmente andremo tutti lì vediamo se riesco a far vedere questa cosa di un minuto se no la finiamo qua eh? faccio io allora eh non c'è non c'è non ce l'ho persa no si è bloccato sarebbe stato bellissimo ve l'avrei fatto vedere volentieri ma è bloccato il computer è bloccato il computer e poi è davanti al lunedì 101 è proprio andato per il tuo personale sì sì ma il computer è in tilt che futuro ma il computer non va benissimo allora direi che possiamo finirlo qua il video ve lo racconterò un'altra volta lo vedete lunedì trasmesso sulla RAI e naturalmente lo vedrete su che futuro grazie a tutti grazie a tutti voi per aver fatto parte di questa squadra di questo progetto ci vediamo alla Rocca grazie a tutti grazie a tutti